Allora stiamo filmando la festa delle debuttanti di Bruce a trovarlo e ad arrivarci. Guarda che carine, guarda che gnocca quella! Quella è incredibile guarda, quello dico vestito nero. Quello tolgo l'audio volendo, ci metto il commento che voglio. Quello lo teniamo noi. Quello devi mettere come taschino, capito? Io me lo prendo qua. Come si spegne? Continuiamo a registrare? No, con questo qua forse spegne. Poi stiamo qui spegne, guarda.